Di Pietrantonio sono giorni caldi a Palazzo di Città, prima la questione riguardante la cittadinanza della senatrice a vita Liliana Segre e poi anche il DUP con le polemiche sullo SPAZ ma anche sulle aree dell'ex COFA, qual è la sua posizione? Ma intanto devo dire che il caldo che diceva è un caldo inutile perché sulla vicenda di Liliana Segre, della senatrice a vita Liliana Segre, è un caldo che si è creato inutilmente, adesso il sindaco e la maggioranza sono tornati un po' sui loro passi e hanno accettato la proposta di dare la cittadinanza onoraria alla Segre, che è una cosa simbolica chiaramente perché è una superstite di Auschwitz, non c'è nulla da aggiungere, era piuttosto ridicolo tutto quello che è successo prima, siamo andati a livello nazionale facendo una figuraccia, io avevo fatto già un appello al sindaco dicendo di recuperare un po' di buonsenso lui e la sua maggioranza e di risolvere questa questione. Sul DUP invece è pensare soprattutto, andare avanti e pensare ai problemi di Pescara, andiamo sul DUP, dunque il documento di programmazione che è l'atto più importante in questi primi quattro mesi di amministrazione centrodestra, abbiamo trovato delle cose davvero singolari, inaccettabili, come quella dello spostamento dell'università all'ex COFA, è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Oggi c'è una dichiarazione anche del Rettore che dice che la cosa fondamentale, la prioritaria è quella del bene degli studenti, su questo siamo tutti d'accordo, ma proprio per questo impegniamoci a trovare una soluzione fattibile, non quella dell'ex COFA, quella non è fattibile, è solo perdita di tempo, non è possibile trasferire l'università lì. Quell'area è da sempre destinata a una funzione turistico-ricettiva, piuttosto mettiamo insieme le risorse migliori di questa città, le associazioni, la cultura, l'università, usciamo fuori dal palazzo e cerchiamo di trovare una soluzione concreta per quell'area in modo tale da dargli uno sviluppo concreto alla città e alla regione. Ultima cosa, dentro questo DUP c'è addirittura lo spostamento, anzi la chiusura direi, dello SPAZ che è l'unico centro di aggregazione giovanile per la prima volta fatta dalla passata amministrazione di centro-sinistra, non è pensabile chiuderla. Se questi sono i primi segnali concreti di questa amministrazione andiamo davvero male perché ci rendiamo conto che c'è davvero, tra l'altro rispetto anche all'associazionismo, c'è davvero un'area veramente contraria da parte di questa amministrazione di destra, insomma non è accettabile. Noi faremo di tutto affinché le cose vadano a favore dei cittadini naturalmente e di tutte le fasce sociali rappresentative della città. Grazie a tutti.